Rossella Panero, direttore di 5T, Tecnologie Telematiche e Trasporti Traffico Torino, presenta Muoversi a Torino e Torino Mapping Party. Muoversi a Torino è un servizio di informazioni in tempo reale sulla mobilità multimodale che si fruisce attraverso smartphone, dispositivi, telefoni di cui dispongono tutte le persone e che consente di avere un calcolo percorsi che tiene conto di tutti i servizi già oggi disponibili di mobilità per spostarsi nella città di Torino e dà la possibilità alle persone di vedere molto facilmente tutto quello che hanno a disposizione intorno basato sulla loro posizione in tempo reale. Legato a questo servizio Muoversi a Torino c'è l'evento del Mapping Party, perché? Perché il servizio Muoversi a Torino è basato su una tecnologia open source di utilizzo di mappe aperte che è Open Street Map e l'evento Mapping Party consentirà proprio di condividere, di far partecipare tutte le persone interessate al miglioramento di queste mappe che vengono utilizzate dal servizio Muoversi a Torino. Quindi sarà un evento anche credo molto gradevole e divertente in cui tutti gli interessati potranno partecipare a rilevare degli oggetti, dei dati sul territorio torinese in particolare sarà incentrato l'evento presso l'Open Inset e quindi il rilevamento avverrà nel quartiere Barriera di Milano e il risultato di questo evento sarà un arricchimento della banca dati cartografica Open Street Map e quindi anche un miglioramento dei servizi informativi come Muoversi a Torino ma anche tutti gli altri che non ha sviluppato 5T ma che utilizzano le mappe Open Street Map. Perché la scelta di questo quartiere di Torino? Questa è stata una scelta congiunta col Comune di Torino perché è un quartiere che è in profonda trasformazione che quindi vede anche la presenza di nuove infrastrutture sul territorio nonché di una nuova regolamentazione della viabilità e quindi è importante andare ad aggiornare le mappe proprio dove ci sono state delle trasformazioni urbane. Il 14 ottobre organizziamo questo mapping party che non è altro che la possibilità per dei volontari di acquisire dei dati territoriali che poi verranno trasferiti su una cartografia e lo scopo fondamentale è quello di aggiornare la cartografia utilizzando delle piattaforme libere di accesso in particolare Open Street Map. Dal nostro punto di vista la giornata sarà organizzata con un training iniziale in cui formiamo le persone per acquisire i dati con i diversi strumenti sia da cartografia on paper che anche utilizzando smartphone o dei ricevitori GPS definiamo qual è il target dell'acquisizione che fondamentalmente sarà legato alla mobilità in una zona di grossa trasformazione di Torino e acquisiamo questi dati e poi nella fase successiva, cioè al termine della giornata prendiamo questi dati, verifichiamo la loro integrità e li carichiamo sulla piattaforma aperta in modo che siano disponibili per tutta la cittadinanza compresa anche 5T e la città che potrà anche in minima parte con questi dati migliorare i servizi che eroga per questa zona di Torino.